Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro presso due depositi di Giuliano in Campania e Casandrino quasi 13.800 capi di abbigliamento contraffatti e denunciato tre responsabili per e-commerce di prodotti con marchi falsi di note griff di moda. L'operazione ha preso le mosse dall'attività investigativa condotta dai finanzieri della compagnia di Giuliano in Campania che tramite il monitoraggio delle pagine dei principali social network hanno scoperto una rete di vendita online dei prodotti contraffatti. Attraverso pedinamenti e appostamenti le fiamme gialle hanno individuato due depositi adibiti ad outlet gestiti dai tre responsabili. All'interno sono stati scoperti 13.795 capi di abbigliamento con brand contraffatti di noti marchi. Nei depositi è stata rinvenuta anche documentazione contabile attestante l'elevato numero di spedizioni degli articoli in tutta Italia. In particolare i responsabili delle lecite attività esercitata esclusivamente attraverso canali internet proponevano a dignari clienti l'acquisto di merce di altissimo valore commerciale vendendola alla metà del costo indicato sui cartellini che accompagnavano il prodotto facendo credere agli acquirenti che si trattasse di articoli originali ricevuti a prezzo di realizzo.